In una gelida serata aquilana arriva la prima sconfitta interna per l'Aquila Rugby Club che al fattore perde 17-32 con una primavera sicuramente più motivata e agguerrita. Ad un turno dalla fine della fase territoriale di Serie A, i neroverdi si confermano comunque matematicamente primi nel giro nel 4. L'Aquila scesa in campo con una nuova maglia bianca parte malissimo e con un errore in difesa favorisce la prima meta dell'incontro dopo 3 minuti, siglata da Michele Ritano, tra i migliori in campo. Rispondono però i neroverdi che al settimo minuto marcano meta con Nicola Ritagliata che schiaccia oltre i pali dopo una molla scatorita da una tush ai 5 metri. Al quarto d'ora l'Aquila va in vantaggio, è lo stesso tallonatore Ritagliata che dopo una lunga cavalcata sull'ala marca anche la seconda meta dell'Aquila. Filippo Di Marco è impreciso al piede ma i padroni di casa conducono 10 a 7. Cinque minuti più tardi ribatte colpo il Primavera con Corcos che ristabilisce le distanze e porta i suoi avanti 10 a 14. La partita è equilibrata ma l'Aquila domina nettamente in mischia. Ne sono una dimostrazione le tre mischie consecutive nel finale di tempo che causano il giallo al pilone romano Serafino. La mischia successiva genera la meta tecnica e la trasformazione di Francesco Cozzi. Il primo tempo termina con un bel drop di Ritano che manda negli spogliatoi in perfetto pareggio, 17 pari. Nella ripresa però inizia un'altra partita, con i neroverdi che subiscono la grande grinta e pressione che mettono in campo i romani, pronti ad espugnare il fattore. L'allungo nei primi minuti è decisivo. Al 45esimo Alberto Martelli slalomeggia facile nella difesa aquilana e schiaccia oltre i pali. Dopo un altro bel drop di Calori, di Mignale, al 51esimo il Primavera segna anche la meta del bonus, ancora con Corcos. 17-32 e per l'Aquila è buio o pesto, come mai successo in questa stagione. Il resto della partita parla di possesso per i neroverdi, con la squadra in avanti per tentare il recupero, ma prima di idee e della concentrazione giusta. La partita è cominciata male e finita peggio. Complimenti alla Primavera a Roma, abbiamo fatto un'ottima partita, però probabilmente la partita l'abbiamo giocata contro noi stessi e abbiamo perso. Perché sicuramente non siamo soddisfatti per come è andata, perché stavamo un po' con la testa già alle vacanze. Questo non ci fa bene, però è l'occasione per lavorare. Forse se doveva succedere, forse è il momento giusto per poter ricompattarci e lavorare per la seconda fase. Per l'Aquila è un'ottima partita, per l'Aquila. Per l'Aquila.